E' il sardo che ha fatto grande il nome dell'isola nel mondo. Con questa motivazione Gianfranco Zola è stato insegnito a Mamuiada con il Mamutone Sadonorem. Mi fa piacere insomma, al di là proprio del premio stesso che è un grandissimo premio, le persone che l'hanno ricevuto sono sempre state personaggi di grandissimo spessore, quindi per me questo è un piacere. Poi è nella mia terra, è vicino a casa mia. Il campione di Oliena ha smesso di giocare da qualche anno, ma in ogni sua apparizione continua ad attirare folla e grandi simpatia. Le sue gesta da calciatore, la classe cristallina, ma soprattutto la riconosciuta correttezza in campo e fuori, lo hanno fatto rispettare da mare, soprattutto in Italia e in Inghilterra, le sue due patrie calcistiche, prima da giocatore, poi da allenatore. È un esempio importante, fondamentale per i giovani, per i giovani di Mamuiada innanzitutto, ma per i giovani in generale, con un forte impegno, una forte umiltà, una estrema capacità insomma. È a pieno titolo un vero Mamutone sicuramente. Lo sportivo ha ricevuto il premio da due bambini dell'associazione Azeni Becoi, dedicandolo alla moglie Franca. La madre di qualcuno di questi diritti che tiene, che sta bene.